Buongiorno, allora, pollicione, se volete iscrivervi vi ringrazio, attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono e commentano il mio materiale, anche oggi spezzo video in due parti cominciamo dalla cosa che vi tocca di più, dopo voglio dire alcune cose sul dormiente e sulla bollinatura della legge di bilancio al momento in cui sto registrando questo video, cioè, sto registrando questo file, scusatemi, alle 9.30 non mi risultano tracce di lavorazioni del bonus 150 euro ieri l'Inf è riuscito a fare un casino che neanche all'asilo, ecco, perché ha fatto contemporaneamente due cose io non so esattamente cosa hanno combinato, perché veramente non stiamo parlando di milioni di pratiche da evadere ma di un numero abbastanza contenuto di pratiche e sono riusciti a incartare tutto poi una l'hanno sistemata, quella del segno unico, e l'altra no, perché attualmente non c'è ancora il bonus 150 euro e come si suol dire, a pensare male si fa peccato, ma più delle volte ci si indovina ieri rispondendo, scrivendo un commento sotto il video che ha messo Radio Ucci, che vi invito ad andare a guardare e l'ho detto, insomma, gli ingegneri informatici che dicono che sono stati assunti dall'Inps ma dove li hanno presi? cioè, va bene tutto, ma dove li hanno presi? al discount più sfigato del pianeta nel cestone delle sfighe sapete quel cestone dove mettono i finché non compra nessuno? ecco, li hanno presi lì, perché un casino così un casino così, con un numero di pratiche esiguo da svolgere, perché non sono tantissimi gli assegni unici su RDC sommati al bonus 150 euro con le condizionali che ha questo bonus, non sono tantissimi e sono riusciti a fare un troiaio che metà basta e nessuno, nessuno che umanamente prende questa gente la pela viva perché lì si sarebbe da licenziare tutti, dal direttore, cioè da critico fino all'ultimo scalzacane per questo lavoro di merda e sistematicamente ieri il sito è andato in crash è andato totalmente in tilt era imballato per riuscire a caricare una pagina ci volevano minuti, minuti d'orologio non un modo di dire, minuti d'orologio e questo è un sito governativo? porca miseria meno male che Sony, Microsoft e Nintendo non hanno questi ingegneri informatici a gestire i loro server se no ci sarebbe da buttarsi direttamente dal balcone, ecco mi dà l'idea della pochezza, della qualità umana di queste persone perché poi ovviamente loro mai che chiedono scusa ah no, anzi con questo governo magari riceveranno pure degli applausi perché tanto nel culo lo prendono sempre i poveracci per chiudere due cose perché dopo ho detto, dopo devo prendermela con una persona in particolare con tutto l'ambaradan che c'è dietro ovviamente il bonus che si sono concessi i loro signori da 5.500 euro, ne ho parlato ieri in live c'è 11 mensilità medie dell'RDC a ogni parlamentare per potersi comprare telefonini tablet e pc ecco ci siamo capiti campano con 15.000 euro al mese hanno bisogno di un bonus sul tagliore per comprarsi queste cose ma hanno la faccia come il culo e faccio notare che la signora in questione ha avuto la ghigna di dire che questa manovra è a favore dei fragili e delle classi medie ecco vorrei contare a quelle classi medie che si sentono bruciare il sedere è grazie a quella lì è grazie a quella lì perché adesso pensate che non ci finirete di tenere il tritacane ma ci finirete anche voi perché se i soldi vengono buttati per ste stronzate da qualche parte poi saranno da prendere lo dico anche ai pensionati mediche è arrivata lei occhio che tanto per cambiare le vostre pensioni non verranno adeguate verranno adeguate meno delle altre e quindi ve lo prendete anche voi in quel posto ma continuate ad applaudire bravi fate le foche monache che vi viene benissimo anzi andate direttamente a qualche SeaWorld a farle le foche monache e poi la schifosissima norma dei 60 euro ha tolto l'obbligatorietà del POS per tutte le spese sotto i 60 euro puoi non utilizzare il POS si sta discutendo sul combattere l'evasione che non è una cosa tanto per dire perché nel PNRR quando è stato firmato dentro c'era compresa la lotta all'evasione fiscale secondo lei questa è una lotta all'evasione fiscale? immagino quanti scontrini da 1, 2, 5 euro voleranno via improvvisamente essendo dimenticati dal mondo ma soprattutto lo dica che vuole aiutare le grandi catene commerciali rispetto ai piccoli negozianti anche qui intanto datevi una svegliata perché se voi non utilizzate il POS gli unici che lo utilizzano sempre di base sono le catene commerciali perché hanno costi minori proprio in rapporto alla massa di gestione economica e quindi chi non potrà fare la spesa da voi andrà a fare la spesa di là e voi ci perderete clienti bravissimi e poi ovviamente è una misura anti-RDC anche questa diciamola quella che è chi è che utilizza soprattutto la carta? i possessori i percettori RDC perché sono obbligati perché non possono ritirare più di tanto il contante quindi sono loro che ci andranno di mezzo e non venga a dirmi che questa è una manovra a favore dei fragili e dei più deboli questa è una porcata in vereconda che fa ribrezzo fa ribrezzo soprattutto perché te la vogliono vendere per quello che non è questa non è una legge di bilancio da potenza industriale posto che l'Italia non lo è questa è una legge di bilancio da paese terzo mondista fatta da qualche dittaturucolo locale che cerca di spacciare le bastonate date ai poveri come beneficenza vergognatevi ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti